Le pippe, le pippe, oltre a spengere il camion, cosa che non possiamo assolutamente fare signori perché noi stiamo lavorando per voi, questo è un fantastico spettacolo che noi adesso abbiamo appena trovato e ci hanno contattato ultimamente per fare dei filmati, servizi in televisione, cose che sembra che voglia cambiare il mondo signori, ma guardate bene come cambia, prego cameraman, allora, una, due, tre, quattro, cinque, sei, valle, signori di questo materiale, noi paghiamo 90 centesimi al quintale, che è moltiplicato per un anno, che è moltiplicato per tutta la provincia di Viterbo, che è moltiplicato per tutta la regione Lazio, che è moltiplicato per tutta Italia, signori fa un ottimo risultato, ma tutte cose che mangeranno i nostri figli, prego cameraman, mi segua, qui abbiamo un altro splendido castonetto, signori, pieno di un, due, tre, quattro, cinque, quelle che riesco a vedere in questo materiale, che noi paghiamo 90 centesimi al quintale, 90 centesimi almeno credo, ma forse è anche qualcosa meglio, notate bene il materiale, vedete bene l'effetto che fa, ripeto, vedete bene l'effetto che fa, e proseguiamo per la tombola, niente, niente, niente ad occhio nudo, perché comunque sia, signori, qui si nota subito della carta, voglio dire, ottimo materiale riciclato, voglio dire, carta, plastica, quello, è cosa che rientra nella normalità, diciamo, comunque sia, niente di, niente, niente va bene dai, per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima